Ecco un tessuto dell'Africa dai molti colori e oggi per cercare i nostri tessitori di fraternità nella fragilità andiamo in Niger, un paese che deve il nome al fiume che lo attraversa, il fiume Niger, ma questo paese è occupato per due terzi dal deserto del Sahara, che la maggioranza della popolazione è di religione islamica, l'islam è praticato dall'80% degli abitanti del Niger. Ho incontrato padre Carlos Basara, argentino di origine della provincia italiana della SMA, che ha passato dieci anni di missione in questo paese, in compagnia anche di padre Gigi Macalli, che ha fatto anche lui diversi anni, di cui due, completamente immobile nel deserto del Sahara e che grazie a Dio ora è stato liberato e noi siamo tutti felici. Ho voluto porre a padre Carlos alcune domande per sapere qual è il suo stile di missionario, di tessitore, di fraternità. Ciao Carlos, è del Niger che voglio parlare quest'oggi con te. Puoi presentarti un po' e presentare il tuo lavoro missionario in questo paese? Ho vissuto nella missione di Bomoanga per quattro anni con il padre Pierluigi Macalli e alla fine mi avevo preparato per andare a vivere in un villaggio musulmano senza presenza cristiana, Bossei Bangu, per fare un po' di dialogo missionario e vita contemplativa, ma sono andato una settimana per preparare il terreno e poi il Signore tramite il Vescovo mi ha inviato a creare una nuova parrocchia nella frontiera con il Burkina Faso, a Cancani. Cosa è stato per te interessante, anzi fondamentale, della tua attività missionaria in Niger? Anzitutto dobbiamo riconoscere che siamo molto fortunati e privilegiati perché abbiamo lo stesso mestiere di Gesù, il grande tessitore di fraternità. Diciamo per primo che la nostra missione è una medaglia con le sue due facce. La prima è tutto quello che si riferisce all'annuncio della parola, sacramenti, catecomenato, eccetera, e l'altra faccia è quella della promozione umana dove illustriamo con le opere quello che diciamo con le parole. Molto importanti sono state le comunità cristiane di base, dove la gente riflette e prega con la parola di Dio. La formazione degli animatori era essenziale, l'abbiamo ben organizzata nel settore o vicariato che comprendeva quattro parrocchie SMA. A livello della promozione umana il più importante impegno è l'alfabetizzazione degli adulti, senza la quale non si può combattere la povertà. Una grave conseguenza della povertà era la taglia abusiva degli alberi con la desertificazione come risultato. Per questo abbiamo lanciato la formazione dei giovani nei differenti mestieri e ad altri nella formazione agricola. Abbiamo fatto l'escavazione di pozzi di acqua a mano e con trivelazioni, il lavoro nel piano della salute, fatto in differenti modi, soprattutto in sensibilizzazione, eccetera, eccetera. Abbiamo anche creato una cooperativa con i paesani per combattere i ricchi commercianti che venivano dalla città a comprare il miglio, il cibo di base, e poi rivenderlo in tempo di carestia. Ci racconti qualche esperienza bella, interessante che hai vissuto? Un'esperienza molto bella che ho vissuto a Cancani sono state le missioni parrocchiali a differenti villaggi. C'era la premissione che preparava tutto, poi la missione cominciava con una quindicina di persone, vecchi, adulti, ragazzi e bambini, partendo dal nostro villaggio e camminavamo tutta la giornata visitando altri villaggi durante tre giorni. Pregavamo con canti, danze e a volte scenette di teatro e dopo continuavamo verso un altro villaggio. Quello che era interessante e simbolico è che la gente dove avevamo annunciato si aggiungeva al gruppo e continuavamo la missione insieme. Anche in certi villaggi alcuni fratelli musulmani partecipavano alla nostra preghiera. Abbiamo pregato addirittura nel cortile della casa dell'Iman. Arrivavamo alla fine circa 150 persone. Leggo che l'82% della popolazione nigerina è musulmana. Com'è il lavoro missionario di un prete cristiano in un paese a grande maggioranza islamica? La mia esperienza è stata positiva, però dobbiamo essere consapevoli delle nostre proprie fragilità e anche della fragilità del tessuto sociale. Riconosciamo che non è sempre facile creare questa nuova trama, per esempio dopo l'incendio delle chiesi a Niamei in 2015. D'ora in poi, dopo il rapimento di Pierluigi e con le minacce e gli attacchi ai cristiani, si dovrà vivere sicuramente in una grande fragilità. E' molto importante essere cosciente di questo e non dimenticare che la nostra fragilità ci aiuta a cercare la fragilità degli altri nelle nostre missioni, quella dei più poveri, degli ammalati, eccetera. Il Papa Francesco, nella sua ultima enciclica Fratelli Tutti, dice che noi siamo responsabili della fragilità degli altri. Che bello! Qual è il futuro della missione in Niger? Penso che per la città e quasi per il resto del Niger, con il 98% dei musulmani e con un cristianesimo che difficilmente arriverà all'1%, adesso con la pressione di un Islam più rigido, la missione dovrà fare una trasformazione radicale. Non sarà più agentes, ma interagentes, che si basa soprattutto nel dialogo missionario e nel dialogo interreligioso. E per concludere allora, cosa significa per te essere tessitore di fraternità nella fragilità? Essere tessitore nella fragilità non ci risparmia dei dubbi e delle paure, certamente, ma dalla mano di Gesù dobbiamo anche rischiare. Come dice una bellissima frase di Anna Isnin, e venne il giorno in cui il rischio di rimanere stretti in un germoglio fu più doloroso del rischio di fiorire. Il rischio di fiorire per la missione, dove lo Spirito ci spinge, ci porta, vale la pena. Ed essere tessitore di fraternità per un mondo migliore è una sfida missionaria meravigliosa. Grazie Carlos, grazie di quanto ci hai detto, e tanti auguri di buona missione ovunque lo Spirito del Signore ti invia. Grazie a tutti.